Il focolaio è a 30 chilometri di distanza, ma Milano si sveglia nella paura, specie dopo che le autorità locali hanno decretato le misure speciali per il contenimento della diffusione del virus. Nonostante venga ribadito dalle autorità che non si tratta di una pandemia, la gente si sta attrezzando per affrontare l'emergenza. Supermercati presi d'assalto, poca gente per le strade, molta nelle farmacie. Da un lato uno pensa di non pensarci, che passa, poi dall'altro si fa un po' prendere dal panico sentendo le altre persone, amici, familiari, quindi è un periodo in cui non si sa come comportarsi. E i farmacisti sono in prima linea nel rapporto con il pubblico in questi giorni, il loro diventa un tour de force. Impegnativo soprattutto anche per non far trasparire questa stanchezza, perché alla fine poi uno non può veramente più di dire che le mascherine sono esaurite, però comunque questo non toglie che la professionalità impone comunque di dare sempre informazioni corrette con la massima pacatezza a tutti quelli che entrano. Anche i taxisti sono una categoria che deve adattarsi ad una situazione molto complicata. Arri bene la macchina, abbiamo del disinfettante dietro, puliamo le superfici che hanno toccato e proseguiamo. E le misure straordinarie che dureranno sette giorni, dopo i quali si deciderà se verranno prorogate, impattano soprattutto sulla socialità che il sindaco Sala ha espressamente chiesto ai milanesi di ridurre. Cinema, teatri e musei sono chiusi. Le disposizioni della regione Lombardia prevedono che dalle 18 le serrande di pub e discoteche chiudano. Siamo sui navigli, cuore della movida e della vita notturna milanese. Questo è il risultato, praticamente un deserto. I milanesi si saranno fatti prendere dalla psicosi per il coronavirus? Questo lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni. Marta Brambilla, Milano, Euronews.